Davide Mazzanti, l'Italia, domani scendere in campo nei quarti, l'avversario è l'Olanda? Ce l'aspettavamo perché comunque il valore è l'Olanda, lo conosciamo bene. Ieri ha mostrato ancora quello che avevo visto nel video, quindi un buonissimo cambio palla, una fase break ben organizzata e quindi dovremo cercare di arginare il loro cambio palla su alcune situazioni tattiche e poi sicuramente mettere in campo qualcosa in più sul nostro cambio palla invece rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Che Italia ti aspetti domani? Sicuramente mi aspetto un'Italia diversa rispetto a quella del girone, sia perché è una partita dentro o fuori, sia perché sicuramente il livello dell'Olanda ci porta ad avere un'attivazione sicuramente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto nel girone e credo che questi tre giorni siano stati importanti per recuperare le energie, non tanto fisiche ma più che altro per tutto quello che abbiamo vissuto nel girone là in Georgia e quindi credo che questi tre giorni per noi fossero davvero importanti. L'Olanda che squadra è? È una squadra molto fisica che ha un break point molto organizzato e se le lasci giocare molto con la palla in mano sono una squadra che ha dei grandi numeri sul cambio palla e quindi dobbiamo vedere quanto riusciremo a staccarli da rete perché con la palla staccarli da rete invece non sono così determinanti, se invece le lasceremo giocare con la palla in mano dovremo fare un grande lavoro di muro difesa. Un fattore che domani all'Italia non può mancare? La nostra identità, sicuro. La nostra identità deve essere in campo perché abbiamo sempre fatto la differenza con quella e sarà ancora quella nostra identità di gioco a fare la differenza domani.